Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Movimento 5 Stelle e coalizione di centrodestra e liste civiche hanno organizzato in settimana alcune iniziative di protesta contro la maggioranza consigliare. Il servizio di Marco Paganini. I gruppi consigliari di opposizione sono stati protagonisti nella settimana appena trascolza di alcune iniziative organizzate per contestare la maggioranza e l'esecutivo di Palazzo Donini, accusati di aver sostanzialmente bloccato l'istituzione regionale a causa di dissidi interni legati alle dimissioni dell'assessore alla sanità. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, hanno organizzato una fiaccolata e una veglia di fronte a Palazzo Cesaroni, esibendo lumini candele e cartelli di denuncia per una regione ormai immobile e morente. Gli esponenti della coalizione di centrodestra e liste civiche hanno invece occupato simbolicamente l'aula consigliare per protestare contro la mancata convocazione dell'Assemblea Legislativa e il rinvio del dibattito dal loro richiesto sulla crisi di giunta causata dalle dimissioni dell'assessore Barberini. Valorizzazione turistica dei comuni, promozione degli itinerari di pellegrinaggio e accoglienza low cost. In seconda commissione consigliare verso l'accorpamento tre proposte di legge convergenti. La seconda commissione consigliare, presieduta da Erosbrega, ha esaminato alla presenza di tecnici dell'assessorato regionale tre proposte di legge convergenti che mirano alla valorizzazione culturale e turistica dei comuni Umbri, affirma Ricci, a valorizzare i cammini itinerari di pellegrinaggio sottoscritta da Ricci e De Vincenzi, di Ricci Presidente, Fiorini e Mancini della Lega Nord, Nevi di Forza Italia, Squarta dei Fratelli d'Italia e a potenziare l'accoglienza a low cost lungo i sentieri religiosi, firmata da smacchi del Partito Democratico. Il presidente Brega, di concerto con i commissari presenti, ha previsto una sottocommissione che sarà impegnata, coadiuvata dagli uffici legislativi di Palazzo Cesaroni e della Giunta regionale, a trovare una sintesi delle tre proposte legislative. Nella propria proposta, Ricci evidenzia l'importanza di ampliare le reti commerciali per implementare una promozione turistica realmente efficace dei comuni Umbri. In quella firmata insieme a tutti gli esponenti della coalizione di centrodestra e liste civiche, Ricci ha rimarcato la necessità di operare un riordino strategico della rete dei cammini e degli itinerari di pellegrinaggio, ridefinendone l'autenticità e migliorandone l'attrattività turistica e la capacità ricettiva. La proposta di smacchi punta invece a potenziare l'accoglienza a basso costo lungo i sentieri religiosi. L'Umbria, ha detto smacchi, deve potenziare la sua vocazione turistica legata alla spiritualità, alla sentieristica religiosa e all'accoglienza dei pellegrini, rendendola un vero motore per il turismo. Nel corso della riunione è stato ricordato che il 2016 è stato dichiarato l'anno nazionale dei cammini e che nel 2015 è stata predisposta la mappa italiana dei principali cammini, della quale fanno parte anche quelli che interessano l'Umbria e su cui si stanno predisponendo mappe interregionali. I rappresentanti di ANCI e ConfCommercio sono stati ascoltati in audizione in seconda commissione consigliare in merito alle modifiche da portare al testo unico del commercio. Prevedere concessioni di carattere temporaneo e connesso alla durata di un evento per le fiere e promozionali, mantenendo termini più prolungati per le autorizzazioni relative alle altre tipologie di fiere. Rivedere la disciplina del commercio itinerante, ripristinando il limite di un'ora di sosta in ogni postazione. Reintrodurre il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni che precedono i saldi e modificare la disciplina dei poli commerciali, introducendo una formula anti-elusione. Sono queste le indicazioni emelze dagli interventi dei rappresentanti di ANCI Umbria e ConfCommercio, Andrea Kaczmarek e Federico Fiorucci, intervenuti all'audizione convocata dalla seconda commissione per raccogliere indicazioni circa le integrazioni al testo unico sul commercio, su cui la commissione è chiamata ad intervenire a seguito dell'impugnativa del governo nazionale. Andrea Kaczmarek ha valutato positive le proposte previste nella modifica presentata in commissione, auspicando la valorizzazione della fattispecie della fiera promozionale, che potrebbe corrispondere a concessioni di carattere temporaneo, così come avviene in Toscana. Sarebbe inoltre opportuno che la sosta degli operatori itineranti fosse limitata ad una sola ora, a prescindere dall'arrivo di un altro venditore, condizione invece prevista dalla normativa regionale vigente. Secondo Federico Fiorucci è necessario ripristinare il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni che precedono i saldi, così come era previsto prima del testo unico, dato che nei mesi in cui è stata in vigore la nuova normativa ci sono state iniziative che hanno creato confusione tra consumatori e commercianti. Andrebbero inoltre ostacolate forme imprenditoriali elusive delle norme legate alle diverse tipologie di polo commerciale, edificio unico o insieme di strutture. Esperti di diritto sanitario e medicina sono stati ascoltati dai membri della terza commissione consigliare dell'Assemblea legislativa sulla proposta di legge che prevede l'istituzione in Umbria di un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. Nell'audizione di medici ed esperti di diritto sanitario sulla proposta di legge concernente l'istituzione di un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario è emersa una sostanziale condivisione da parte dei medici presenti per uno strumento che consenta al paziente non più in grado di decidere sul proprio trattamento sanitario di dichiarare in anticipo le proprie volontà sulle cure cui essere o non essere sottoposto. Tuttavia, proprio perché si tratta di dare o no il proprio consenso sui trattamenti medici, è stato evidenziato come questa sia materia di competenza statale, non delle regioni, alcune delle quali infatti hanno già subito impugnative su analoghi disegni di legge. A sostenere l'impossibilità di intervento della regione su materie di competenze dello Stato è stata in particolare Assunta Moresi, docente dell'Università di Perugia e consulente del ministro Lorenzin, che ha parlato comunque a titolo personale in qualità di esperta. Il problema, ha spiegato, è che si tratta di atti di consenso o di senso rispetto ai trattamenti medici di evidente competenza legislativa statale. Trattandosi di tutela della salute, non si possono avere difformità a livello regionale. Desta perplessità anche la figura del fiduciario, colui che materialmente consegna al medico le volontà antecedenti del paziente. Di diverso avviso, la docente di scienze politiche e studiosa di diritto sanitario Alessandra Pioggia, secondo la quale esiste un diritto di tutti noi a non essere sottoposti a trattamenti sanitari, come sancisce l'articolo 32 della Costituzione. E c'è anche un pronunciamento del Consiglio di Stato che sancisce il diritto inviolabile del paziente di rifiutare le cure e l'obbligo dell'amministrazione sanitaria di attrezzarsi affinché tale diritto possa essere esercitato. Inoltre, è dovere del medico prendere in considerazione le volontà del paziente quando egli non è più in grado di formularle. Per i medici, le DAT sarebbero di grande aiuto, hanno detto. Sempre meglio che non avere niente e dovere decidere sulla sorte di un paziente in stato di incoscienza soltanto con i parenti. In ogni caso, la responsabilità penale ricade comunque sul medico, il quale è anche obbligato dalla propria deontologia a tenere sempre in considerazione le volontà del paziente. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le televisioni private della regione, è disponibile in rete sul sito istituzionale del Consiglio e naturalmente su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.